a questo mi sembra che stanno tirando via metà la panna e c'è un'arco di storia ora è lì non c'è un garabu prezzo alla seconda ma anche se non c'è buona se di fondo e va a legare un garabu è l'arco di storia è stato un'arco di storia grazie